Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili per lavori, rallentamenti in direzione mare tra Santa Croce, sull'Arno e Montopoli-Valtarno e sempre per lavori, chiusa l'uscita di Montelupo-Fiorentino provenendo da Firenze. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti, percorsi alternativi sulla Provinciale 12 o per viaggi più lunghi sulla 11, tutte le info sui nostri canali social. Sulla Statale 1 Aurelia, scambio di carreggiata per lavori tra Grosseto Nord e Grosseto Est. I treni, ricordiamo che fino al 2 settembre per lavori di potenziamento, la linea Bologna-Prato è interrotta tra Prato e Pianoro. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!